Al Colalillo la maceratese batte il Boiano per 1 a 0. Un Boiano che doveva iniziare un nuovo corso ha avuto un po' di problemi di segreteria e la gara è iniziata con 25 minuti di ritardo, indispettendo sicuramente non poco il direttore di gara. Ma veniamo alla cronaca. Al secondo minuto da fuori aria gli ospiti ci provano con Conti che sfiora il palo. Dopo appena un minuto il Boiano con Curto da fuori aria sfiora la traversa. Al ventiquattresimo Migliorelli semina il panico in aria, prova la conclusione che viene deviata in angolo. Al ventinovesimo Migliorelli ancora lui, buona la sua giocata respinta con i piedi da Turbacci. Arriva Itogo che colpisce debolmente con il numero uno ospite che riesce a parare. Al trentatreesimo dal limite Migliorelli manda fuori. Nel secondo tempo al decimo minuto l'episodio che decide la gara. Sabatino commette un fallo in piena aria su Aquino che termina a terra. L'albitro è a due passi e decreta il rigore che Ambrosini di forza mette in rete. Al dodicesimo viene espulso Ferrante per doppia munizione per un fallo su un avversario. E Boiano che resta in dieci uomini. Al ventisettesimo due cambi in casa a Boiano. Mister Gargiulo decide di cambiare qualcosa sul terreno di gioco. Escono Bartic ed entra Mastropietro al suo posto. Poi esce Migliorelli tra i migliori sicuramente sul terreno di gioco ma molto affaticato. Al suo posto entra Catapano. Al quarantunesimo episodio clamoroso. Questo la dice lunga su quello che è stato l'arbitraggio nel secondo tempo. Dicevamo un episodio clamoroso. Va in rete Ambrosini. A gioco fermo il direttore di gara dà il gol. Ma dopo sulle proteste dei giocatori del Boiano consulta il collaboratore che a suo tempo ha abbassato addirittura la bandierina. Poi si decide con molto coraggio e annulla il gol. Al quarantatreesimo a Etogo in area da buona posizione manda fuori. Un giocatore molto lento in avanti e un Boiano che sicuramente deve rivedere il suo organico acquistando sicuramente una punta che sappia mettere il pallone in rete. Domenica prossima il Boiano si regherà in casa della capolista Ancona.